Musica Benvenuti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Siamo qui per parlare di Carnevale, Carnevale di Fano 2017 Debutta il Carnevale di Fano più antico d'Italia il 12 di febbraio Qui in studio con me c'è la presidente dell'ente che organizza questa importante manifestazione Che ogni anno richiama in città a Fano migliaia e migliaia di persone Maria Flora Gianmarioli, buonasera Maria Flora Buonasera Allora, questa mattina c'è stata la presentazione ufficiale del Carnevale di Fano alla stampa E quindi dunque il programma a questo punto è nero su bianco E noi questa sera cogliamo l'occasione per parlarne un po' Certamente non andremo a leggere giorno per giorno perché è davvero tanto Ci sono davvero tante cose all'interno di questo programma Però una cosa va detta Allora, questo è un corso nuovo innanzitutto Perché per chi ha seguito le vicissitudini dell'ente carnevalesca Saprà già che non c'è più la vecchia guardia Non c'è più la vecchia gestione C'è una gestione completamente nuova Tralasciamo adesso tutti gli aspetti Tutto quello che c'è stato negli ultimi mesi E andiamo però al sodo Era doveroso dire che c'è questa nuova guardia C'è alla guida dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli Che immagino in questi giorni sarà un po' Come dire Agitata per questo debutto Perché no? Ma assolutamente sì Una sana agitazione Che ti tiene fisso e concentrato su quello che si deve fare Che cosa c'è che bolle in pentola Tra le novità sulle quali diciamo punta di più Sulle quali spera di ottenere il successo del pubblico All'irà del fatto che poi il carnevale di Fano Certamente il successo lo determina il getto Per esempio Perché è la caratteristica più importante del nostro carnevale Così come i grandi carri di Cartapesta Quest'anno ci saranno quanti carri di prima categoria? Dunque come già detto spesso Noi abbiamo puntato moltissimo Sulla riqualificazione di quello che è la compagine dei maestri carristi Che si stava morendo Quindi abbiamo puntato molto sul fare carri nuovi Questo per dare linfa a questa categoria appunto Che veramente era rimasta ormai da quasi quattro anni senza lavoro in sostanza E quindi puntiamo tanto sul lavoro e sul lavoro a questa categoria Facciamo quest'anno tre carri di prima categoria nuovi Tre carri di seconda categoria nuovi e il pupo Quindi un grande sforzo che l'ente carnevalesca ha messo in campo Impossibile senza la collaborazione dei maestri carristi Con cui ci siamo messi a tavolino E abbiamo scoperto le carte Questo era quello che era a disposizione E se lo sono diviso Per poter realizzare un carnevale Un carnevale in cui credevano Un grande carnevale nuovo Con carri nuovi E quindi siamo tutti insieme Per un unico fine Perché poi l'ente carnevalesca e i carristi non sono separati Non devono essere separati Tre carri nuovi però a sfilare saranno quattro Quindi ci sarà anche un carro dell'anno scorso Magari con un restyling Sì, però ci sarà anche un carro dell'anno scorso Le mascherate Allora, le mascherate Quelle diciamo storiche sono due E in più avremo tante mascherate Da vari paesi che abbiamo coinvolto Perché in questi mesi ci siamo dedicati moltissimo Al coinvolgimento del territorio Quindi non solo Fano Ma anche i dintorni Ma anche Urbino Quindi tutta la provincia Siamo andati a presentarci A presentare il nuovo progetto E quindi stiamo raccogliendo i frutti Di quello che è stata una Una chiacchierata Con tutte le realtà Appunto del fanese e del territorio Quindi ci saranno anche tante mascherate Che verranno dall'entroterra Dicevamo del getto Il getto che è fondamentale Per la buona riuscita del carnevale di Fano Quest'anno ha fatto notizia La tra virgolette rottura Tra l'ente carnevalesca e la perugina Che con fatica qualche anno fa I suoi predecessori avevano riportato Con i famosi baci perugina Avete scelto un'altra azienda Ed è un'azienda di Rimini Perché questa rottura? Allora, non è una rottura È una momentanea separazione E consensuale, tra l'altro Perché la perugina stessa Non ci ha potuto garantire Un prezzo possibile Per l'ente carnevalesca E secondo noi è etico In questo momento di grande crisi La perugina, mentre fino all'anno scorso Trattava anche caramelle Quindi nella complessità di tutti i dolciumi Dove la maggior parte erano caramelle Ovviamente riusciva a fare un prezzo possibile Per l'ente carnevalesca Quest'anno avendo solo cioccolata E trattando solo cioccolata Ovviamente non era più in grado Di fornirci un prezzo possibile E noi abbiamo preferito Scegliere una linea etica Che ci sembrava corretta Cioè spendere il giusto Per il getto E con i soldi risparmiati O comunque con quello che c'era Abbiamo preferito puntare appunto sul lavoro Sarà un getto abbondante E soprattutto non solo immagino di Boero Perché l'azienda è di Rimini Se la vuole citare La può citare Certamente È un'azienda di Rimini Che non solo cioccolatini al liquore Perché si pensa anche chiaramente ai bambini Allora Intanto voglio ringraziare la Rovelli Perché è un'azienda Che si è appassionata Al carnevale di Fano È un'azienda che è stata scelta Per la grande qualità soprattutto E ve ne accorgerete Perché ci sono dei cioccolatini ottimi È stata scelta Perché abbiamo deciso Di fare in modo Che l'80% del getto Sia di cioccolata Quando in passato Per motivi economici Ovviamente non si riusciva A coprire questo grande Lasso percentuale di cioccolata Cioccolata era molto meno C'erano tante caramelle Quest'anno l'80% sarà di cioccolata Di cioccolata ottima E sottolineo Non verranno lanciati i Boero I Boe Abbiamo detto Non abbiamo mai detto Che lanciavamo i Boero Abbiamo detto È la ditta Che produce i Boero Per far capire Quanto la ditta fosse importante Perché i Boero sono conosciutissimi Ma ovviamente Non verranno lanciati i Boero Uno Perché sono al liquore Due Perché nessun cioccolatino Con dentro un liquido Può essere lanciato Perché si rompe E farebbe in modo Che uno Si sporchi Quindi non è proprio possibile E possiamo anche sapere Quanti quintali Quasi 200 quintali 180 180 quintali Che avete acquistato Ora è importante Per chi Così Volesse Provare L'ebrezza La gioia Di lanciare Dai carri Questi Una parte Di questi 180 quintali Suddivisi in tre Ovviamente in tre domeniche Che cosa deve fare? Deve contattare L'ente carnevalesca Abbiamo un consigliere Stefano Ciavaglia Che è l'esperto Del getto Che Che appunto Assegnerà Le postazioni Che sono rimaste libero E so che ne sono rimaste Due o tre Quindi pochissime Però effettivamente Il brivido del getto È realmente Un brivido È divertentissimo E le persone Continuano a tornarci Proprio perché È un divertimento unico Brivido per il quale Togliamocelo subito Dal campo Si paga Si paga È un brivido che Chiaramente Ha un costo Per questo Tutte le informazioni Si possono avere Voglio precisare Proprio questo Nel bilancio Preventivo Noi abbiamo appunto Messo Per quanto riguarda Il getto Questa regola Che non doveva Costare L'ente carnevalesca Fino Nei tempi passati C'era sempre Un disavanzo E la carnevalesca Doveva in qualche modo Fornire dei soldi Per il getto Perché non si riusciva A fare paro Abbiamo messo a punto Questa regola Che il getto Dovesse Quello che usciva Entrava Quindi Quello che le persone Pagano per andare sul carro Effettivamente il costo Della cioccolata Semplicemente per Ripagare Ormai diciamolo Quanto è che si paga Per salire sul carro Beh questo dipende Sinceramente bisogna Che sentite Ve lo ridiremo Ve lo ridiremo Ve lo ridiremo Lei ha parlato di bilancio Allora a questo punto Colgo la palla al balzo Perché nei giorni scorsi Dovevate Approvare il bilancio Però E' mancato il numero Legale Che cosa sta succedendo? Ma semplicemente E' la prima volta Nella storia Dell'ente carnevalesca Che siano 1700 I soci I soci Di conseguenza Come da regolamento Che è un regolamento vecchio E soprattutto adatto A pochi tesserati Come era fino All'anno Prima Insomma E quindi In seconda convocazione Ci volevano il 10% Quindi 170 persone Comprese le deleghe E ne abbiamo radunate 138 Quindi non è stato sufficiente E quindi la riconvochiamo Insomma Non mi sembra Adesso Ma modificando lo statuto O lasciando tutto così com'è? Allora Ovviamente lo statuto Lo modificheremo Ma comunque La prossima convocazione Sarà inevitabilmente Col vecchio statuto Quindi adesso A brevissimo La riconvocherò In seconda convocazione Andremo Circa a metà marzo Per far passare il carnevale Così noi Lavorare tranquilli E poi Ma ve l'aspettavate Da una lettura Come dire Un po' particolare Di questa cosa? Beh certo Radunare 170 persone Per approvare un bilancio Voglio dire Non tutti Sono interessati Quante persone Sono state tesserate Così per amicizia Piuttosto che Per così Per il corso Viene Si tessera Si sente minacciata Da questa cosa? Ma no Ma ci manca Ma le minacce Sono altre Nella vita Ci mancherebbe altro Voi avete Adesso preso in mano Lei con il suo direttivo In mano Una macchina Fiammante Una Ferrari Che bisogna Saper guidare Ha un po' paura Di compiere Qualche manovra Sbagliata In questo senso Perché organizzare Un carnevale Così importante Oltretutto Quest'anno E lo affronteremo Tra un istante Il problema Della sicurezza Quest'anno C'è anche Appunto Il problema Di gestire Tanta gente In un clima Che non è Certamente favorevole Per i grandi raduni Di massa Dunque Paura no Certo Sto concentrata Su quello che devo fare Su quello che dobbiamo fare Perché sicuramente È un grande evento E i grandi eventi Vanno gestiti Con serietà E con puntualità Certamente Come ho sempre detto Io comunque Ho una formazione Per cui Queste cose Mi sono congeniali Ovviamente Una manifestazione Così grande Non l'ho mai organizzata Quindi potrà capitare Che qualche errore Lo facciamo Recupereremo Altre cose sicuramente Andranno bene Quindi siamo Diciamo Sereni Coerenti Di quello che Andiamo a gestire Seri Puntuali Consapevoli E poi Vedremo E poi Alla marzo Faremo il punto Volentieri Con tutta la città Dove accetteremo Tutte le critiche Costruttive del caso Senza alcun problema Ecco Quindi affrontiamo Adesso il problema Le chiedo Sul fronte della sicurezza Voi avete avuto Nei giorni scorsi Più incontri Con la prefettura Di Peso Rubino Quali sono le richieste Della prefettura Allora Faccio una precisazione Noi abbiamo avuto Tre incontri Con la questura E un incontro Col prefetto La questura Ci ha In un primissimo Incontro Dato un'indicazione Di dover Quest'anno Chiudere Proprio per questioni Di sicurezza Ma non perché ci sia Un'attenzione particolare Sul carnevale di Fano Che è assolutamente In serenità E non credo che Fano Sia sotto l'occhio Del ciclone Però ovviamente In tutta Europa Ci sono In tutta Italia Ci sono queste attenzioni Ovviamente Le grandi manifestazioni Ormai sono controllate Ed è giusto Che sia così Quindi va Assolutamente Presa come una cosa Positiva E un'attenzione Positiva Della questura Nei confronti Della città E della manifestazione Ovviamente Passati Dalla questura Siamo passati In prefettura Proprio per avere Un giudizio Anche del prefetto Che aspettiamo Di ricevere In maniera ufficiale Insomma Si è parlato Anche Negli ultimi tempi Del ritorno Ammesso che qualcuno Se lo ricordi Del biglietto Per entrare al Carnevale di Fano Carnevale di Fano È sempre stato gratuito In questi ultimi decenni Voi ci state pensando Lei avrà il coraggio Di riportare il biglietto Avrò il coraggio Assolutamente Sì Nel senso che Non è Non siamo più Ai tempi In cui Tutto può Ricadere Sull'amministrazione pubblica E non è neanche Giusto Penso che una manifestazione Come il Carnevale di Fano Abbia Il diritto Di avere Un rientro Per fare in modo Che Questo denaro Ritorni sulla città Questo denaro Torni sul lavoro Delle persone Sul turismo Quindi Contando che Il Carnevale di Viareggio Al Carnevale di Viareggio C'è un biglietto Di 18 euro Io penso Che un piccolo biglietto Che non arriverà mai Alle cifre di Viareggio Contando che I bambini Potrebbero non pagare I fanesi Potrebbero pagare Una cifra simbolica Un turista Che viene a vedere Il Carnevale di Fano Penso che 8-10 euro Penso che li possa pagare Insomma Tutto sommato Se ne vanno Con decine di euro Di cioccolata Quindi Vedono uno spettacolo Io penso anche Che Le cose gratuite Non sono Non sono mai Valorizzate abbastanza Quello che è gratis Non vale Invece Il nostro Carnevale vale Gli dobbiamo dare Questo valore Un piccolo valore Popolare Un piccolo biglietto Popolare Ma sicuramente Dovremmo metterci in testa Che questo Dovrà essere Lo ha detto L'assessore Marchegiani Più volte Credo che non sia Niente di grave Se ci sarà Un piccolo contributo Di un turista Che viene a Fano A vedere il Carnevale di Fano Ecco A proposito di turisti Gli albergatori Si sono un po' lamentati Sul ritardo Del programma La promozione Del programma Lei cosa risponde? Ma che si sono anche subito Rivisti e corretti Perché Il programma È uscito ormai Da quasi Dieci giorni online E le prenotazioni La stessa Tuquitur Che ci è sempre vicino Ci ha confermato Notevoli prenotazioni Tanti bus Tanti pullman E certamente Il primo anno È il più Faticoso È il più Forse complicato Proprio perché All'inizio Abbiamo dovuto Intanto capire Fare un progetto Condividerlo Perché senza progetti Non si va a spanne Ma Non si Non si Non si guarda tutti Nella stessa direzione Quindi Questo ovviamente Ci ha richiesto del tempo E L'anno prossimo Sicuramente Sarà tutto più semplice E snello Però Ritengo che comunque Le prenotazioni Dei palchi Sono quasi completi Il getto Lo stesso I pullman Sono prenotati Quindi Penso che siamo in linea Su quello che è Il normale Andamento Sulle tribune Avete cambiato qualcosa Rispetto alla disposizione Ad un pubblico Più più o meno era È rimasto E quindi L'andamento Più o meno Della Domenica Sarà orientativamente Quello Con qualche piccola Rifinitura Qualche piccola Ripulitura Poi si andrà Tutti in piazza Per il finale Della domenica Con degli eventi In piazza E quindi Ecco Ogni presidente Ha voluto Negli anni Lasciare un po' La sua impronta Ricordo Mazzanti Era particolarmente Attento Per esempio Allo spettacolo Pirotecnico Luciano Cecchini Con la sua lotteria Ecco La sua Quale Vuole essere Qual è Ce n'è una in particolare Ma la mia Oppure farà sia I fuochi d'artificio Che la lotteria No I fuochi d'artificio Non li farò Non li faremo E la lotteria Assolutamente sì Quest'anno Si ripropone Con la beneficenza Alla Mensa di San Patrino L'Opera Padre Pio E E quindi Assolutamente Non ci è mai Venuto in testa Di non dover Mettere la lotteria Ci mancherebbe Sempre andata Molto bene Vedremo se Negli anni Potremo svilupparla Magari Ampliarla Ad una lotteria Nazionale Vedremo perché Ancora Non ci ho Sinceramente Non ci abbiamo Messo mano Ci sono delle regole Molto più stringenti Non è così semplice Improntare una lotteria Come può sembrare Sul fronte Dei divieti Conferma Il divieto Dell'uso degli ombrelli Assolutamente sì Quindi ci sarà il prendigetto Anche quest'anno Certamente E il divieto Dell'uso Spero Oltre che la vendita Delle bombolette spray Certamente sì Poi speriamo che Venga Venga mantenuto Questo Questa regola Da chi Da chi compara O vende Bombolette Ovviamente noi Tutte le cautele Le terremo Questo pacifico Allora il carriere di Fano Ufficialmente Come dicevamo Sfila per la prima volta Il 12 di febbraio Ma ci sono delle date Inserite in programma Che cominciano già Da qualche Per esempio dal giovedì Giovedì Anzi da sabato 4 febbraio Sabato 4 febbraio C'è una cosa che Già spicca come novità Ovvero la presentazione Del pupo Sì Già in tempi passati Questo Questa cosa si faceva Noi l'abbiamo voluta riprendere Anche su idea Del vicepresidente Alfredo Pacassoni Quindi l'idea Della presentazione Del pupo Del carnevale Infatti Da via Cavour Passeremo Sfileremo Con anche le bande La musica arabita Con alcune mascherate Arriveremo fino in piazza Faremo la presentazione Del pupo Faremo un piccolo Intrattenimento Un piccolo Momento Anche istituzionale E presenteremo Anche l'inno Salve o Fano Che in conferenza stampa Questa mattina È stata suonata Dall'orchestra Rossini Dai componenti Fanesi Dell'orchestra Rossini E Mentre in piazza Il 4 Sarà suonata Dalle bande cittadine Quindi dalla musica arabita La banda città di Fano E l'orchestra di Fiat Fiano in fortuna Solitamente Quando arriva E c'è il cambio della guardia Quando arriva un nuovo presidente La prima cosa che fa È che cerca Nella scrivania Nella sua nuova scrivania Un pennarello rosso Con il quale Depenna Le cose fatte in passato Lei che cosa ha depennato? Leggo per esempio La corsa degli uomini Inudi Questa l'ha depennata È vero? Allora L'ho depennata Dimmi, dimmi, dimmi No, no Poi No, no Vada Risponda a questa Poi voglia Allora Quello che è stato depennato Che sono Poche cose Allora Premetto che Logicamente Se Se un nuovo presidente Un nuovo CDA Deve fare il carnevale Dell'anno passato Ovviamente Sta a casa Perché Non ha senso Di esistere Quindi Questa è la prima premessa Secondo poi Tutto quello che ci sembrava Il nostro carnevale È un carnevale di partecipazione Ecco Fondamentalmente è questo E tutti Gli eventi collaterali Che ci sono Alla sfilata Sono Eventi che Le associazioni I gruppi Hanno offerto Alla città Oltretutto Come ho detto Noi Le maggiori risorse Le abbiamo Volute Incanalare Sul lavoro Dei maestri carristi Di conseguenza Non avevamo risorse economiche Molte risorse economiche Peraltro Quindi Le Appunto Le associazioni Gli eventi Che sono stati offerti Al carnevale di Fano Li abbiamo colti Con grande Serenità E con gioia Quelli che ovviamente Rientravano nel nostro progetto Logicamente Ce ne sono stati alcuni Che non abbiamo Potuto inserire Perché non avevamo Le coperture economiche Per farlo Ciò non toglie Che Se da qui All'inizio della manifestazione Possa cambiare qualche cosa Perché magari Perché magari Riusciamo a trovare Degli sponsor Ulteriori O Questo Non ci impedisce Di rinserirli Parlo anche Dell'evento Di centrale fotografia Con cui ho un appuntamento Con Con il dottor Sparaventi Dopodomani A cui Avevo già detto Ci siamo già parlati Cordialmente Spiegandogli Questa difficoltà Quindi Non è assolutamente La corsa degli uomini nudi Non le piaceva No La corsa degli uomini nudi Non mi dispiaceva Abbiamo parlato anche Con chi l'ha organizzata L'anno scorso Quindi eravamo anche Disposti A rinserirla Modificandola un po' Perché ho trovato Qualche criticità Però comunque c'era Ma purtroppo Non avevamo la copertura Economica In passato Erano stati Ok Sul liscio invece Non transigo No sul liscio Non transigo Niente liscio Al carnevale di Fano Neanche ai veglioni No Allora No adesso Ho ballato il liscio Per tanto tempo E mi piace tanto Però ecco Diciamo così L'ente carnevalesca Non ha organizzato Veglioni con il liscio Ma Ospitiamo Ospitiamo Tre domeniche Dei gruppi Che organizzano Delle feste danzanti Con dei gruppi di liscio Quindi ci mancherebbe No Siamo aperti a tutto Il liscio È una danza popolare Che io personalmente Amo moltissimo L'ho ballata per anni Anzi Ho fatto anche dei concorsi Quindi E ha vinto Vinto no Però insomma Ho fatto la mia bella figura Però ecco Come ente carnevalesca Abbiamo organizzato Un veglione un po' particolare Un po' Durante il carnevale Tutto si ribalta Abbiamo organizzato Insieme a Voice Italia E Offish Questo carnevale Ma ci sarà un luogo Dove fare questi eventi Certamente Oltre alle schilate del carnevale Quello che noi abbiamo chiamato Palavulong E cioè Il salone della Marina dei Cesari Che ci ospita E dove faremo il nostro veglione E anche ospiteremo le altre feste Alcune delle tante feste Che sono in calendario Avremo modo di parlare ancora Del carnevale di Fano Adesso il nostro tempo a disposizione È terminato Vorrei che Prego Vorrei semplicemente Puntare un attimo L'attenzione Su anche L'accoglienza E la beneficenza Che il carnevale di Fano Fa E ringrazio L'onorevole Lara Ricciatti Per averci dato L'idea di ospitare I bambini Di tre Paesi terremotati Delle Marche Che insieme All'assessore Bagnesi E a Laura Cecconi Presidente Dell'Opera Padre Pio Accoglieremo Al carnevale di Fano E li faremo passare Una giornata Piacevole Lontano Dalle macerie In qualche modo Ecco quindi Ringrazio tanto L'onorevole Ricciatti Perché veramente Ci è stata tanto vicino Credo che come Presidente Lei debba Rivolgere un invito A mascherarsi Perché i fanesi A volte Sono un po' resti Però Credo che sia importante Partecipare Al carnevale di Fano In maschera Che dici? Eh beh Dico che assolutamente Lei ha ragione Io spero tanto Che questo messaggio Sia bypassato Spero tanto Che questo avvenga E comunque Ci lavoreremo Perché dovremo arrivare Almeno nel mio triennio Dovremo arrivare Ad avere Le persone mascherate Allora Forse lei non lo sa Glielo dico A lei E ai telespettatori Fano tv Ha messo in campo Una novità Anche noi Dopo undici anni Di dirette speciali E quant'altro Quest'anno Abbiamo deciso Di fare Il processo Al carnevale Lo faremo In diretta La domenica sera Quindi a poche ore Dal termine Della sfilata Noi saremo qua In diretta A raccontare Quello che è successo Nel pomeriggio Su Via Le Gramsci Grazie Sarà un processo Al carnevale Un po' come si fa Con il processo Alla tappa Di ciclismo O al calcio Il lunedì sera Noi lo faremo Domenica sera Alle 20.30 Dove parleremo Del carnevale di Fano Voi potrete dare Giudizi Sul getto Sui carri Su tutto quello Che avete visto Al carnevale E quindi sarà un modo Per tenere viva E alta L'attenzione Di questa bellissima Grazie Straordinaria Manifestazione Che i fanesi Dovrebbero portare Nel cuore E in giro Per il mondo Grazie al presidente Del ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli Grazie a voi Per averci seguito Questo approfondimento Termina qui Arrivederci